richiamaci e poi ti metterai in contatto con noi. Adesso velocemente dobbiamo iniziare con la prima concorrente, lei è una bellissima ragazza, si chiama Maria Enrico e canta una canzone della grande Lara Fabian ad agio. Maria Enrico! Se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con la mente. Il sole mi sembra spento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei, quello che vorrei vivere in te. Il sole mi sembra spento, no, 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 abbracciami con la mente. Se sai, smarrita senza di te. Mi significa che ci crederò, così che sei. An scomi e a warum. Diamo la parola a Mattia Vieni qua Maria Io sono pronto Allora i voti saranno espressi a voce Otto No, non si è sentito bene Ripetiamo Otto Sette 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 Otto Sette Allora Maria è stata molto coraggiosa Perché ha portato una canzone Molto ma molto difficile E un grande spessore vocale Grazie Maria In bocca al lupo e ci vediamo dopo Passiamo adesso al secondo concorrente Allora mentre li facciamo accomodare Perché è una band Mentre loro prendono postazione Loro sono una band E canteranno un pezzo inedito Visto che pagano l'oro Noi ci andiamo a prendere il caffè e il cappuccino Va bene? Perché pagano l'oro Vai E pure il cornetto Sì La band Morgana in Paghiamo noi Paghiamo noi pagano l'oro Ma veramente dobbiamo andare al bar Dicono che tu avevi solo voglia Di dire che non sei come noi Sei peggio di noi Non sei come noi Non sei come noi E a cosa servono i servizi d'oro ormai Caghi come noi Caghi come noi Caghi come noi Caghi come noi Paghiamo noi Paghiamo noi Paghiamo noi 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 E dimmi ancora un po' Dov'è che abbiamo sbagliato? Eh sì che abbiamo votato, eh sì che abbiamo sbagliato Ma sei peggio di noi, sei peggio di noi, sei peggio di noi E spiegami com'è e a cosa servono servizi d'oro ormai Caghi come noi, caghi come noi, caghi come noi Caghi come noi, paghiamo noi, paghiamo noi Paghiamo noi, paghiamo noi, 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 noi Paghiamo noi, paghiamo noi, paghiamo noi Ah pagate voi! Benissimo, bravi bravi Tutto al bar, allora vieni qua non ti muovere, passiamo la linea a Mattia Eccoci qua, velocissimamente Eccoci qua, velocissimamente Dieci Dieci Prego Momento Alex, gentilmente o se no ci ripetiamo Ripetiamo Dieci Dieci Sette 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 Adesso dobbiamo chiamare un altro ragazzo, lui già ha partecipato al Festival Italiano Show E adesso ripartecipa per la seconda volta, perché dobbiamo dire che Chi partecipa al Festival Italiano Show e non passa la selezione, la serata, non è detto che non può più ripartecipare Anzi può partecipare e può sfidare gli altri che vengono qui Concorrenti Gli altri concorrenti Ok, passiamo subito al terzo concorrente, Elpidio Del Rico con Baciami e portami a ballare Mi viene incontro la strada, dopo vent'anni quasi quasi ridendo Cosa vuoi da me? Mi hanno domandato quasi quasi ridendo Quanti chilometri andati, quante notti al volante, inseguendo un sogno a metà Adesso che sono grande, faccio ancora domande, non si ferma la curiosità E allora baciami e portami a ballare Tu che sai come riempire i giorni miei Fa che sparisca tutto il male Tu che sai farmi ritornare in me E allora fa che sparisca la nebbia e la luna tornerà a brillare Fa che ritorni il sorriso nei pomeriggi da dimenticare Fa che ritorni il lavoro e l'entusiasmo dei giorni migliori Poi fa che ritorni la gioia che si riaccendono tutti i motori Facciami e portami a ballare Tu che sai come cambiare i giorni miei Fa che sparisca tutto il male Tu che sai farmi ritornare in me Oh 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 Ok, vieni Perfetto, è il video del Ringo, vieni qui Allora diamo la parola a Mattia velocemente Abbiamo solo sette minuti Siamo prontissimi, eccoci qua Otto Sei Sette Sette Ripeti un po', sette Sette Sei Sei Sette Sette Ok, grazie, ci vediamo dopo Noi abbiamo finito qui, poi vediamo il risultato, va bene? Perfetto, ma ci vediamo dopo Allora io adesso farò la narrazione per quando riguarda la sfilata Allora, presentazione stilista Maggiulo Teresa Una passerelle dedicata al giorno più bello e significativo Per una donna e per una coppia La celebrazione di un amore, il matrimonio Quindi l'abito da sposa, abiti che vanno oltre i solidi canoni E schemi di una società tipica per una donna Che anche in un giorno speciale come questo È libera e si sente libera di scegliere ciò che è meglio La rappresenti Coreografie Cipriano Donnarumma E trovate la stilista anche su Facebook e su Twitter E su Youtube Grazie a tutti 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 Grazie a tutti